Il vostro sindaco, questo è un messaggio registrato a cura dell'amministrazione popolare e la prego di ascoltare, ho il piacere di annunciarle che da oggi nel nostro comune è attivo un importante servizio di informazione telefonica con cui verranno comunicate notizie di protezione civile riguardanti le avverti meteo, particolari situazioni di criticità o altro e la invito ogni volta che riceverà una telefonata dal comune di Follonica a non riagganciare ma ad ascoltare attentamente il messaggio, se vuole essere raggiunto da questi messaggi anche sul suo telefono cellulare o su altri suoi numeri di rete fissa, non presenti nell'elenco telefonico, la invito a iscriversi al servizio attraverso un modulo che è presente sul sito internet del comune di Follonica oppure può presentarsi all'urba, al piano terra del palazzo comunale. La ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione. Un saluto a tutta la sua famiglia.